signori i miei quattro consigli del cavolo per quando dovete cambiare la ruota della macchina che non so avete fatto una bucatura ecco mania bella consiglio numero uno non fatevi vendere a panico consiglio numero due mostrano uscendo le ruote a airless cioè senza copertone senza camera d'aria cioè ancora più la delle tubeless che erano quelle lì senza camera d'aria e che ci avevano pure alcune di loro fatte con un'anima di gomma rigida in modo che pure quando si sgonfiavano almeno si camminava sopra questa anima di gomma rigida come erano fatte le vecchie ruote delle carriordine una volta ma comunque se più la prenderanno vi consiglio di comprarvi le airless cioè mi metto in descrizione un paio di fotografie cos'ammino le vedete un po come sono fatte comunque in mancanza di tempo no io vi consiglio di eliminare il ruotino di scorta che hanno molte vi consiglio di comprarvi due ruote di scorta in più una ve la mettete nella macchina apposta del ruotino che non so ce l'ho regalata a qualcuno lo mettete che so lo aggiungete a un altro tale quale faccio un carrello appendice che ne so comunque io vi consiglio di non usare il ruotino di scorta ma un'altra ruota tale quale a questa così almeno perché il ruotino di scorta quando l'hanno fatta proprio una grande fregatura cioè almeno per quanto mi riguarda comunque una due ruote in più no una ve la tenete in dalla macchina per proprio per in caso di emergenza e l'altra ve la tenete a casa nel garage in modo che se qualcosa la cambiate quella lì che sta a casa nel garage e quella lì di scorta buona ancora ve la tenete in macchina casamai dovesse bucare due volte comunque i signori vi consiglio di non affidarvi troppo a cric e al girabacchini che vi da la macchina stessa ma di comprare la parte vi consiglio di comprare quello lì a cioè ad olio quello lì che si bomba la parte perché è molto più comodo di quello lì a manovella che solitamente vendono e che danno insieme alla macchina stessa ricordatevi che serve l'olio per i freni per quel tipo di cric la non serve l'olio per il motore quello è un altro tipo di olio cioè l'olio per i freni è una cosa e l'olio per il motore e l'olio per i freni è una cosa che sapevano un sacco di persone ma comunque se vi è possibile questo è un metodo proprio diciamo di fortuna per poter cambiare la ruota perché questo quando mettete i clic solitamente i clic sollevano la macchina però se non avete un clic buono cosa fate sempre attenzione ma fare sempre la manutenzione buonanotte sanatori comunque questo è un metodo un poco più casareccio pigliate un paio di pietre mettere così no poi prendete un bastone di legno la feccati fino a sotto all'asse della ruota da lontano sollevate un poco così in modo che si alzi solo l'asse della ruota e poi mettere un paio di piedi per farlo fermare in modo che la macchina rimane sempre firma comunque vi consiglio di mettere sempre il freno a mano cioè il freno a mano quando scendete come questo è sempre una simulazione comunque il secondo sistema per fare cose più fatte bene io vi consiglio di comprarvi questa girabacchina a cruce signori è molto meglio di quello lì al che solitamente danno in dotazione con la macchina questo è molto meglio guardate comunque lo mettete dentro perché questo c'ha bene o male tutte le misure dei dei bacchini cioè dei perni da dove cambiare i bulloni diciamo diciamo così no e poi vi consiglio di unirvi di un tubo io rivendo pure più piccoli di questi qua però sempre con la testa della stessa misura vi consiglio quello più piccolo che più maneggevole e poi un tubo come questo io questo qui per esempio molti plastica ce la dovrebbe fare io non non mi piace montarla tanto per farvi capire però se se vi capita forse parli anche quello di metallo però io questo qui di plastica buono che è difficile che si curvi non state a guardare qua perché questo dovrebbe essere buono perché voi mettete per esempio cambiare questa ruota mettete qua no si ricevitano in maniera antioraria mettete una mano qui sopra no in modo che vi aggrappate poi una mano qua e poi con il piede così fate leva no questo è soltanto per farvi proprio da per farvi sforzare di meno questi e i miei consigli per cambiare la ruota che ho detto tutto questo questo video mi fa proprio uno schifo questo non è niente comunque questi sono i miei consigli in tanti anni che mi ritrovo con la macchia però vi ricordo un altro consiglio ancora se avete ancora questo tipo di cose qua compratevi quei coperchietti in più qualche coperchietto in più e compratevi pure quella chiavetta che si mette dentro alla valvola per rispondare proprio la valvolina dentro le vendono pure i cinesi non vi preoccupate però io vi consiglio di comprarvi quelle buone e non di affedarvi a quelle da quattro soldi vabbè mi pare che ho finito tanti saluti e votiamo staccate